Vi mostriamo adesso delle immagini davvero impressionanti. Poche ore fa al Golden Gala, il tradizionale meeting di atletica che si svolge all'Olimpico di Roma, un atleta di salto in lungo è stato infilzato alla schiena da un giavellotto finito fuori traiettoria. La scena drammatica è stata seguita dagli spettatori in diretta sui maxi schermi. Sentiamo Simone Costa. Poteva trasformarsi in una tragedia la festa dello sport del Golden Gala di Roma, perché intorno alle 22, quando tutte le varie competizioni stavano per entrare nel vivo, la punta del giavellotto lanciato dal finlandese Bit Kamaki ha colpito sul costato il saltatore francese Salim Sdiri. Ho solo rotato il corpo un po' troppo verso sinistra e purtroppo il giavellotto è finito nella zona del salto in alto. Un grande spavento il francese che si accascia alla corsa in campo dell'ambulanza, vicino a lui il campione italiano Andrew Howe, il primo a prestargli soccorso, il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo. Il giavellotto è arrivato a 86-87 metri, dall'altra parte è uscito fuori campo giustamente, cioè mi è passato davanti alla faccia e si è conficcato nelle coste a lui, cioè di un bel po', di una decina di centimetri. Io gli ho dovuto tirare fuori, ma non è che è uscito facilmente, gli ho dovuto tirare fuori. Lui si è accasciato per terra giustamente. Poi c'è un marchio sul costato, insomma, di una portata enorme. Non ha colpito i punti vitali giustamente, fortunatamente. Per il francese le prime cure al Policlinico Gemelli è il terzo incidente, in meno di un anno con un giavellotto, durante gare di atletica.